Ben tornato a Zvetan Sokolov, di nuovo a Trento dopo una stagione, dopo anche tante partite con la nazionale. Zezza. Sì, sono tornato, sono molto contento che sono iniziato, ripreso, di allenare con Trento e anche sono qui. Cioè, speriamo che questa stagione sarà meglio di l'anno scorso. No, speriamo che giochiamo bene, che tutti stiamo a posto, che alleniamo bene. E di divertire tutti i tifosi che vengono qui. Il gruppo è molto giovane, rispetto al passato sono cambiate tante cose, anche tu avrai un ruolo decisamente più importante. Magari questo è meno che il gruppo è cambiato, perché ci sono tante giovani, perché questo sembra che tutti danno il 100% di quello che hanno, che lavorano bene, che allenano bene. Allora, io sono contento di questo, perché a me mi sembra di allenare, mi serve di allenare. E anche di giocare tante partite, per il ruolo più importante, penso che non è così. Penso che la squadra è quella che deve giocare come uno. Tutti hanno un ruolo importante dentro, perché questo non è un gioco singolo, è un gioco di squadra. Quanto ti è servito l'ultimo anno fra Cunio e la Nazionale Bulgara, dove hai giocato tantissime partite? Mi è veramente servito tanto, perché ho giocato, ho preso un'esperienza che mi serve tantissimo, perché come tutti sanno, gli ultimi tre anni non è che ho giocato tanto, però quello anno che è passato, sono cresciuto tanto mentalmente e anche fisicamente, e penso che questo mi aiuterà tantissimo quest'anno. Subito un paio di impegni importanti, Supercoppa Mondiale per Club, ancora prima di iniziare il campionato. Penso che questo anche è meglio per me, perché adesso sono tornato dal campionato europeo, penso che sono un po' in forma, diciamo così, penso che tutti sono pronti di giocare quella Supercoppa e quello campionato mondiale. Speriamo che usciamo al campo e giochiamo il nostro gioco, e il risultato penso che si vede. Vuoi fare un saluto ai tifosi della Trentino Volley? Cioè, voglio dire che sto aspettando di vedere tutto il palazzetto pieno, come sempre, come ogni partita, sono molto contentissimo che sono qui, li voglio salutare tutti.